Benvenuto ad Andrew Spanaus, analista politico, professore alla Cattolica di Milano. Buongiorno, professore. Buongiorno. Buongiorno. Come vedete è giorno dove sono io, quindi. Prego. Qui a New York. È giorno. Come vedete è giorno dietro di me, quindi. Certezza. Buongiorno. Senta, professore, andiamo avanti su questo discorso che già faceva Pagliara, cioè il tema dominante dell'unità che Biden si ripropone di ricostruire, diciamo, negli Stati Uniti. Come potrà farlo? Ha già firmato 17 ordini, diciamo, del Presidente che stravolgono completamente la politica trampiana. Quindi, voglio dire, ha cominciato nel segno della decisione. Sì, Joe Biden è partito con molte azioni esecutive e si prepara a portare delle proposte di legge che riflettono le priorità democratiche, che sono un pacchetto di aiuti economici molto grosso, per esempio. Sicuramente troverà un po' di appoggio da parte repubblicana per quanto riguarda l'intervento pubblico. Infatti, alcuni conservatori hanno sostenuto l'idea dei assegni diretti alla popolazione. Però, queste sono le priorità democratiche. Poi, il suo tentativo di parlare a tutti, secondo me, non sarà così facile. Le parole sono importanti per dire che sarà il Presidente di tutti, ma dovrà entrare un po' nel dettaglio, cosa che non ha fatto ieri, per spiegare come cambierà veramente le cose per quella parte dell'America che si sente esclusa, dove c'è comunque la disperazione, l'idea di essere lasciati indietro dalla globalizzazione, da certi processi economici. Questo non basta dire bene, noi faremo di tutto, tutte le nostre priorità. Bisogna cercare veramente di dare delle azioni concrete per questa parte dell'America, che comunque non ha votato Joe Biden. Spannaus, a proposito di politica estera, ieri Joe Biden ha lanciato il suo messaggio oltre i confini americani, ha detto ripareremo le nostre alleanze e lavoreremo per l'affermazione della pace, della sicurezza e del progresso nel mondo. Quali sono le sfide più importanti? La sfida principale per gli Stati Uniti adesso è la Cina. L'approccio verso la Cina è cambiato durante i quattro anni di Trump e le istituzioni americane danno atto a Trump di questo, anche se dopo i fatti del 6 gennaio diventa più difficile la discussione di quanto di positivo ha fatto Trump. Ma ormai il concetto è lo scenario internazionale, è una competizione tra grandi potenze. La Cina ha riconosciuto questo ruolo e gli Stati Uniti hanno deciso come sistema che bisogna investire, bisogna recuperare, non permettere alla Cina di diventare dominante in certi settori economici. Quindi questo è il punto principale per Joe Biden che sarà certamente più multilaterale. Il suo approccio sarà di parlare di più con gli alleati, prendere in considerazione e cercare di stringere alleanze maggiori anche nell'Asia Pacifico. Però non cambia tanto la sostanza della sua politica. Per l'Europa anche qui sarà più multilaterale, però gli interessi americani comunque sono di avere un'Europa forte che sia alleata degli Stati Uniti in questo contesto globale. Grazie professore. Grazie, grazie e buon lavoro.